Noi insieme con il nostro primo. Allora, velocemente abbiamo tanta carne al fuoco. Tema, velocità nelle città. Firenze è la città dove si fanno più multe in Europa, addirittura un terzo delle multe d'Italia vengono fatte a Firenze. È uno dei temi della campagna elettorale insieme ai 30 all'ora, perché la discussione che è nata attorno a Bologna con questa velocità fa storcere il naso a tanti. Anche Firenze ha zone a 30 all'ora. L'assessore Giorgetti, il sindaco Randella, dice ok, le abbiamo per sicurezza, perché se succede qualcosa a 30 all'ora non ha lo stesso impatto che anche a 50, ma non facciamo multe. È uno dei grandi temi, Torselli. Corretto il 30 all'ora? Il multificio, come dice qualcuno? Sono due temi completamente differenti. Vai, velocissimo però. Tema 30 all'ora in mobilità, in ambiente, non esistono dogmi. Il 30 all'ora non è la soluzione a tutti i mali, il 30 all'ora non è il male assoluto. Ci sono, se sei utilizzato in maniera responsabile, per ora lo dico da uno che fa opposizione, a Firenze non mi sembra sia stato usato in maniera ideologica. Se si utilizza come deterrente in alcune aree, penso alle prossimità di luoghi frequentati da anziani, da bambini, può essere uno dei mille deterrenti che si possono usare, non credo sia la risoluzione a tutti i problemi. Multe? Il problema è le multe. Se una città come Firenze fa da sola un terzo delle multe italiane, c'è un problema. Non si può far finta di nulla e non può l'amministrazione comunale dire che non esiste un multificio. Perché o a Firenze sono tutti matti e quindi abbiamo una città di Verstappen e di Hamilton, oppure evidentemente qualcosa che non va c'è. Io faccio sempre esempio dei display segnaletici messi all'ingresso della ZTL, quando ci dicevano che i display non avrebbero risolto il problema, perché i fiorentini sono scorretti ed entrano in ZTL. Abbiamo messo, grazie anche a Fratelli d'Italia, all'epoca Iapo Cellai, che era quello che si intestò alla battaglia, abbiamo messo i display luminosi che scrivono che diventano rosso e verde, le multe si sono, non dimezzate, più che dimezzate. Evidentemente c'era un problema a capire la segnaletica preesistente. Se oggi si fanno le multe sui viaggi di circonvallazione a 56 km orari, c'è un problema, perché non credo che uno che viaggia a 51 km orari sui viaggi di circonvallazione sia una minaccia per il traffico o per la sicurezza a Firenze. Pescini, tema multe è uno dei traldoni d'Achille della giunta Nardella, almeno viene spesso presa di mira, i numeri che sono usciti sabato fanno riflettere. Nell'area metropolitana fiorentina senz'altro c'è un problema di sicurezza stradale, anche quest'indagine che lei cita lo dice e dice che anche dove sono stati inseriti autovelox intelligenti sono diminuiti gli incidenti e stanno diminuendo. Ovviamente le multe sono la cosa più antipatica perché poi colpiscono indiscriminatamente, bisogna avere tutti la cognizione che in special modo in città io poi su questa polemia sulla zona 30 io vado da San Casciano in consiglio regionale. Io ci metto da San Casciano a via Senese fino a via del Gelsomino, impiego ora che c'è il bypass circa 15 minuti, altri 25-30 lì impiego per arrivare e anche passando dalla ZTL perché ho il permesso per entrare al luogo di lavoro come chiunque abbia il luogo di lavoro con parcheggio interno, io ci metto all'incirca 25-30 minuti. Vado a una media, lo guardavo stamattina mentre andavo in consiglio regionale per la commissione, una media di 25-30 lì, in alcuni tratti 45. Di notte ovviamente vai, comunque Firenze non è interessata a questo momento dalla zona 36 come Bologna, ma il traffico in città senza dubbio è tale che si va a una media molto bassa. Bisogna diminuire l'incidentalità, il che significa anche sistemi come dire intelligenti. Guardi che io ad esempio anche nella polemica sulla FIPL, io sulla FIPL sono sempre stato per inserire il tutor, per l'esperienza, perché il tutor è uno dei sistemi per cui i primi due anni fai tante multe. E poi, e diminuisce però l'incidentalità. Negli anni successivi diminuisce l'incidentalità e diminuiscono tantissime anche le multe perché tutti si abituano a quel sistema. Quindi bisogna, ci vogliono, siccome ci sono, noi voglio dire, dobbiamo essere coerenti con noi stessi, tutti noi diamo contributi, approviamo anche tante mozioni di sostegno alle associazioni che si occupano di sicurezza stradale. A Firenze ce ne sono di importantissime anche che hanno, tra l'altro, permesso di fare leggi nazionali con la loro forza, con la forza della loro azione. Quindi bisogna essere conseguenti su questo. Tra l'altro, come sempre, ad esempio sugli autovelox, io incrocio sempre, spesso, quello di Viale Marco Polo, diciamo, quando passo da lì. E devo dire che i primi tempi poi ti entra automaticamente e sono limiti comunque 60-70 all'ora. Quindi sul Viale 11 agosto l'incidentalità era altissima. Ora da quando c'è la zona 50 con l'autovelox è molto migliorata. E non è che siano aumentate le code perché le code le dà il semaforo. Fittante, la vostra idea, la vostra strategia sul tema multe e anche sulle zone 30 con velocità perché siamo ricorsa. Sinteticamente, intanto, consideriamo che a Firenze entrano 270.000 macchine al giorno. Significa un'altra città. Per cui la nostra idea, ed è una mancanza di infrastrutture, avrebbe dovuto fare anche una metropolitana sotterranea da Prato a Firenze con tutta la piana. In modo tale che renda al cittadino la possibilità di non utilizzare la macchina. Per quanto riguarda le multe, io credo che un conto è la sicurezza stradale, un conto è fare delle tasse aggiuntive ai cittadini. Io credo che bisogna lavorare su due livelli. Il primo, anzi, su una visibilità più importante, più qualificata delle stazioni appunto degli autovelox. Dobbiamo informare i cittadini, non dobbiamo solo punire, ma dobbiamo informare e prevenire. Questo è un primo aspetto. Poi il secondo è sulla questione del 30 all'ora. Il centro di Firenze, diciamo, è ovvio che può essere comprensibile, ma al di fuori noi dobbiamo considerare che a Firenze a volte si va anche meno di 30, anche a 20, per il traffico che c'è anche a 10 all'ora, o ferme addirittura. Per cui il punto è di riconsiderare la mobilità e di pensare a una nuova forma, diciamo, di sicurezza stradale, investendo anche in quella direzione. Noi abbiamo un cazzo di multe così elevato che purtroppo non vengono spesi per prevenire, ma solo per punire. Questo è un aspetto fondamentale. Noi dobbiamo considerare che il livello delle multe che ha raggiunto Firenze non è assolutamente accettabile. Allora, come si fa? Si educano i cittadini a fare in modo che questi non lo facciano. E come si fa? Informandoli, informandoli preventivamente, facendo una campagna di informazione e addirittura, ripeto, ripensare completamente le forme di informazione degli autovelox. In alcune parti, diciamo, nella parte esterna della città e anche in altre cittadine intorno, addirittura i colori degli autovelox sono arancioni. Perché? Perché sono più visibili. I nostri sono grigi, nascosti dietro le piante, quasi a punire solamente i cittadini. Allora noi dobbiamo fare prevenzione, sicurezza stradale, ma prevenzione, non solo punizione. Non dobbiamo fare a cittadini tasse aggiuntive, perché il prezzo che si sta a pagare per le multe è veramente esagerato e improponibile. Chiarissimo. Tema sicurezza, lo ha citato prima Fittante, a Firenze le spaccate sono purtroppo divenute quasi all'ordine del giorno, anche se c'è stata una flessione negli ultimi giorni, come ha raccontato la scorsa settimana la prefetta Ferrandino. Non soltanto a Firenze, vado da Francesco Storai a Prato per il racconto di quello che è accaduto, ad esempio, siamo insieme ad una commerciante che una spaccata l'ha subita qualche giorno fa. Francesco. Sì, non soltanto a Firenze, purtroppo anche a Prato, nella sola città di Prato, tra furti e spaccate, dal 7 gennaio si viaggia ad una media di circa due furti e spaccate a notte sostanzialmente. Una vera emergenza, ne è stata vittima anche Jessica con la sua attività qui nella zona di Santa Lucia di Prato, zona nord. Cos'è successo Jessica? Allora, non era neanche notte, dalle otto e mezzo, le nove la sera, perciò che ci può essere anche persone a giro, ci sono entrati in negozio sforzando la porta, rompendo la porta e rubandoci strumenti che noi ci lavoriamo, macchinette, phone, forbici, i prodotti, è tanta confusione in negozio. Un danno di circa un migliaio d'euro. Sì, perché poi avevamo anche un fondo cassa che solitamente non lasciamo, ma per l'appunto quella sera sì. Più ci saranno purtroppo anche i conti della persona che ha riparato la porta e tutto quanto. Sì, si aggirerà più di mille euro, sì. La difficoltà in questa fase, in un mercato così competitivo come quello dei parrucchieri, dei saloni di bellezza, è già lottare letteralmente quando uno è aperto e poi trovarsi anche in fondo al mese questi mille euro che potevano essere investiti in tutt'altro modo, investiti invece nei danni e nel furto che ha provocato questo ladro. Sì, purtroppo il periodo non è dei più buoni. Il lavoro è quello che è e sì, facciamo questi mille euro, potevano essere investiti molto diversamente. Noi siamo in difficoltà sinceramente perché la porta va risistemata velocemente perché si chiude molto male una spallata e la riaprano. Gli strumenti ci servono per poter lavorare e insomma si spera che le assicurazioni che noi abbiamo facciano le cose molto velocemente, si spera. Le associazioni di categoria in attesa delle associazioni private che pagheranno però comunque lo faranno nei loro tempi, nelle loro modalità, le associazioni di categoria ad esempio Concommercio nella provincia di Prato e, pardon, di Firenze si sta organizzando per istituire un fondo comune a sostegno dei commercianti che subiscono dei danni per arrivare subito con un contributo in caso di danni e furti. Secondo lei da commerciante, da negoziante questa può essere una buona idea da applicare anche qui a Prato? Sarebbe un'ottima idea, su Firenze so che c'è e qui mi informerò ma non penso, però per noi sarebbe molto importante un aiuto così forte. Farrebbe stare anche più tranquilli la notte perché purtroppo facciamo corda ma può sempre risuccedere visto quanto sono comuni queste situazioni. Sì, sicuramente sì, quello sì, aiuterebbe tantissimo. Nicola, se ci sono domande... No, Francesco, grazie a te, grazie alla tua ospite. Fittante, diceva la sicurezza, è il vostro cavallo di battaglia, sempre con il dono della sintesi perché siamo di corsa, ma questa storia l'abbiamo sentita a Prato, purtroppo a Firenze ne abbiamo innumerevoli di molto simili. Purtroppo è così, Firenze sta vivendo un momento veramente particolare e qui non è una questione di dare colpa a destra l'amministrazione, al governo, qui è la questione di trovare soluzioni. Noi presenteremo in un convegno come Anima Firenze 2030 a breve le nostre proposte per la sicurezza e anzi invitiamo i cittadini a seguirci sul nostro sito www.animafirenze.it. Riguardo alla specificità, noi dobbiamo prevenire, per prevenire in particolar modo queste spaccate vengono fatti da disperati delinquenti che naturalmente poi vengono rilasciati subito dopo appena ovviamente presi. Allora il punto qual è? Che noi salviamo questi immigrati in mezzo al mare e li salviamo. Benissimo, è una causa nobile, ma poi li facciamo annegare nel mare della criminalità. Noi dobbiamo provare a trovare dei sistemi che possano prevenire questi aspetti. Come si fa? Con due elementi. Il CPR dove effettivamente chi delinque deve stare chiuso e non può andare in giro per Firenze con finti fogli di via e qui la responsabilità è del governo, della regione e del comune. Devono collaborare perché questo CPR va fatto. La seconda aspetto è un CPRF, cioè un CPR di formazione. Quelli che non delinquono, che vogliono rifarsi una vita vanno formati e aiutati in quei 18 mesi perché se non creiamo le condizioni di formare nuovi cittadini avremo altri delinquenti, avremo altri problemi con costi molto aggiuntivi e molto più grandi. Poiché sono finanziati dall'Europa. Questi CPR vanno fatti in modo tale che ci sia la salvaguardia per chi ovviamente non delinque e non deve stare in giro per Firenze, ripeto, e poi quelli che devono essere aiutati. E poi l'ultima cosa, i vigili urbani. I vigili urbani sono polizia urbana, devono essere impiegati per la polizia urbana. Basta tenere un terzo dei vigili negli uffici che fanno praticamente lavoro democratico quando potrebbero essere incaricati e messi sul territorio a fare la prevenzione. Con la volante di quartiere, vigili di quartiere, è un presidio di prevenzione perché se non si guarda sulla... bisogna lavorare su due filoni, prevenzione e depressione. Prevenzione e depressione. Questa è la nostra proposta. Grazie fittante. Pescini, il tema del CPR è uno di quelli che ha scaldato di più, anche diviso il Partito Democratico, insomma, nella fase congressuale dello scorso anno. Adesso l'indicazione anche della Regione sembra essere stata presa. È un tema così sinergico, così legato a quello della sicurezza e delle spaccate? Allora, anche qui rifacciamoci ai dati. La Regione Toscana, congresso o non congresso, ben prima del congresso, noi in Consiglio legionale avevamo approvato mozioni, discusso con l'opposizione. Su questo noi siamo... la Regione Toscana, come modello di accoglienza, ha sempre scelto quello dell'accoglienza diffusa e in piccoli nuclei abbastanza contenuti, anche perché quando i nuclei sono stati troppo forti e ce ne sono stati alcuni dove c'erano centinaia di persone, non si è retto, soprattutto nei centri, diciamo, medio-piccoli. Quindi questo è il modello della Toscana e su questo abbiamo sempre ragionato. In più, la Toscana, come altre Regioni, ha detto no ai CPR, ma dateci i fondi, perché ricordiamoci, dallo Sprar, che era ben finanziato, si è passati al SAI, ora si chiama, saproimi, non mi ricordo più come si chiama l'ultima versione, ma via via è stato definanziato il settore dell'accoglienza e quindi significa pagare meno educatori, significa pagare... I bandi vanno quasi tutti deserti. E infatti i bandi ora vanno deserti. Si diceva allora era troppo quello che veniva dato, ora i bandi vanno deserti e si crea clandestinità. I CPR nelle regioni che non sono abbastanza, le regioni dove ci sono, hanno risolto per caso il problema della sicurezza. Basta guardare dati? No. Quindi non si tratta di quello, si tratta di avere come Stato e poi collaborare con le regioni e con gli enti locali un equilibrio nella redistribuzione. Significa ovviamente anche rispetto ai temi successivi, quelli della repressione, avere un numero di agenti, perché il Comune di Firenze, l'ha detto la signora, mi dispiace, l'artigiana parrucchiera che è stata vittima della spaccata, ma ha fatto alcune cose importanti perché ha pagato, e anche altri comuni, sta pagando insieme con fondi dell'amministrazione, gli steward, in un progetto con la Camera di Commercio, le ha ulteriormente ampliati, ha ampliato e sta ampliando con un concorso l'organico della Polizia Municipale, ma si sa bene che la Polizia Locale può arrivare fino a un certo punto. Mentre il governo ancora da anni, anche quando era ministro nel governo Conte I, Salvini, venivano richiesti 200 agenti, diciamo che dal 2018 a oggi sono arrivate alcune sostituzioni. C'è un problema perché Firenze ha un dato migratorio molto forte di persone che sono all'interno della città, ci vuole per questo, non solo per il dato migratorio, ma in generale per il numero di reati che ha Firenze, che sono commessi da tutti, anche dagli italiani ovviamente, ha bisogno di un numero di agenti e di un ordine pubblico. Ora, nell'ultimo periodo, sembra che qualcosa sia arrivato, ma non è sufficiente rispetto alle necessità di una grande area metropolitana. Lo ricordava affittante Firenze ogni giorno, dalla mattina alle 8, alla sera alle 8, ha un'altra Firenze che arriva. Torselli, non bastano gli agenti, come dice Nardella, come ci diceva anche Piscini adesso, quelli stanziati dal governo? Non bastano sicuramente, intanto ne sono arrivati 60 su 6.800 mesi a disposizione dal governo per le città italiane, di cui 800 per le stazioni, quindi la partita sulle stazioni è a parte. Non bastano assolutamente, ci piacerebbe che magari il comune facesse la sua parte. Il comune è sotto organico per quanto riguarda la polizia municipale a Firenze, hanno fatto un bando adesso per assumere nuovi agenti di polizia municipale, hanno fatto un bando che scade a gennaio 2025. Ecco, se magari il comune ci venisse incontro, perché guardate, gli agenti sono il primo a chiedere più agenti in strada e servono per un tipo di sicurezza. È impensabile confronteggiare un fenomeno come quello delle spaccate che avviene la notte e avviene principalmente in zone di periferia con gli agenti di polizia. Non sono periferia, su Firenze è uno dei casi in cui il centro è preso molto, la stazione... No, no, ma dico anche di periferia, in centro lo presidi con più agenti, ma è impossibile pensare di fare tutto con l'agente di polizia. In quel caso la polizia municipale, il presidio del territorio potrebbe dare una mano enorme. Se tu, comune di Firenze, ti lamenti che arrivano pochi agenti e tremandiamo 60, ma tu fai un bando per gli agenti di polizia municipale e metti la scadenza a gennaio 2025, vuol dire che diventa complicato presidiare il territorio. L'ultimo flash che facciamo... Ricordiamoci che il Comune di Firenze ha anche investito, probabilmente è un record in Italia, anche quello, è citato, ma quello di San Dio di Polè sulla videosorveglianza, moltissimo, perché Firenze ha migliaia ormai di telecame di videosorveglianza e servono. Da tutti i punti di vista, insomma c'è anche la control room, l'abbiamo vista qualche giorno fa, serve per il traffico, ma serve anche per la sicurezza. L'ultimo tema che andiamo a toccare riguarda una polemica, perché abbiamo citato il PNRR, su questo piano nazionale e con i fondi che arrivano dall'Europa, una parte dei soldi dovrebbero servire anche a risarcire i familiari delle vittime delle stragi, quelle della Seconda Guerra Mondiale del 1944 in gran parte. Vado a Civitella Valdichiana, uno dei territori purtroppo colpiti da uno di questi eccidi, perché c'è grossa polemica, soprattutto tra i familiari, perché su questi fondi aleggia una coltre di mistero. Greta Settivelli con il sindaco. Esatto Nicola, e poi c'è anche la notizia, insomma, di un superstite della strage di Civitella che ha ricevuto addirittura la prescrizione, oltre appunto alla opposizione dell'Avvocatura di Stato. Sì, quello che sta succedendo a Civitella è un po' in linea a quello che sta succedendo negli altri territori, dove c'è un ostruzionismo latente da parte dell'Avvocatura dello Stato, da parte del MEF, nell'andare ad attingere a quello che era il fondo. Ricordo che per attingere al fondo c'erano due requisiti, o meglio, uno dei due requisiti. O si aveva una sentenza di passato ingiudicato in cui c'era un riconoscimento, oppure si dava un tempo per promuovere una causa civile. Ecco, quello che è successo a un cittadino di Civitella, che aveva a suo tempo, nel processo penale della Spezia, si era costituito parte civile appunto contro gli ufficiali tedeschi, contro la Germania, e in quella stessa sentenza del 2008, passato ingiudicato, gli era stato riconosciuto appunto il risarcimento civile. Lui, a differenza di altri, aveva chiesto l'attingimento al fondo, al MEF appunto, che è diciamo il Ministero e Deputato, e la settimana scorsa, dieci giorni fa, appunto, gli è arrivata una nota del MEF in cui gli si diceva che in qualche maniera da quando c'era stata appunto la sentenza passata ingiudicata ad oggi, era passati più di 38 anni, quindi in qualche maniera la sua richiesta era prescritta. Penso che questa cosa sia una cosa molto grave, anche perché ricordiamoci da dove veniamo, ricordiamoci che la strada di Civitella, come tante altre stragi in Italia, erano chiuse in quello che conosciamo come armadio della vergogna, quindi per avere un giusto processo penale ci è voluto più di 50 anni e ora si chiede, poi si richiama quello che è la prescrizione. Mi sembra veramente un atteggiamento abbastanza discutibile. Vedo che in studio c'è il consigliere Pescini, a cui lo ringrazio, perché anche come consiglio regionale hanno portato un'interrogazione, quindi che ritengo che sia molto importante, quindi ringrazio lui e ringrazio anche il senatore Parrini che la scorsa settimana ha portato in Senato un'interrogazione parlamentare. Voi sindaci tra l'altro vi siete riuniti pochi giorni fa per avviare un percorso comune per chi vive insomma le stesse vicende. Sì, certo, noi ci siamo visti, c'era anche il consigliere, una riunione organizzata appunto dal consiglio regionale e dal consigliere Pescini, ci siamo visti i primi di gennaio a Firenze in quello che è il coordinamento delle stragi nazifasciste, dei comuni stragizzati, fatto dalla regione toscana un paio di anni fa, una cosa veramente molto bella. Ci siamo riuniti anche per andare a definire quella che è poi una linea comune da tenere contro questo atteggiamento latente della avvocatura del Stato e del Governo. Grazie Greta. Il sindaco si è dimenticato forse, voleva ringraziare anche il Governo che ha messo 5 milioni e mezzo in più sul fondo stragi e che ha approvato l'emendamento a prima firma del senatore Parrini. Il senatore Parrini che ringrazio anch'io, sedendo all'opposizione, ha presentato l'emendamento che è stato approvato da chi siede in maggioranza. Così come quella mozione, e lo ringrazio di nuovo, l'ho fatto in consiglio regionale, che ha presentato il consigliere Pescini è stata votata anche da quella che è l'opposizione in consiglio regionale. Quindi ringraziamoli tutti i soggetti coinvolti, perché 5 milioni e mezzo in più sul fondo e la possibilità di prolungare l'impegno preso dal Governo a prolungare i tempi per poter far sì che non succedano più quelle ignobili risposte che abbiamo letto in consiglio regionale insieme, dove a qualcuno viene detto che non hai sofferto abbastanza perché non è rinato quando tuo padre è stato ammazzato. Questa roba è ignobile. Non succeda più. De ringraziare il consigliere Pescini, lo ringrazio anch'io, il senatore Parrini, lo ringrazio anch'io, ringrazia anche il Governo nazionale che ha messo 5 milioni e mezzo in più. E dice il sindaco, lo ringraziamo anche il Governo nazionale. Il nostro è un comune stragizzato. Io ringrazierei il Governo nazionale. Da due anni il sindaco di Sant'Anna di Stazema ha fatto una bellissima proposta di legge popolare che riguarda contro il fascismo e il nazismo che siede ormai da due anni nei banchi del Parlamento e non è all'ordine del giorno. Negli ultimi vent'anni potevate mettere all'ordine del giorno. Poteva chiedere al suo partito di metterla all'ordine del giorno negli ultimi vent'anni, sindaco. Non facciamo campagna elettorale su sta roba. C'è un'unità di intenti, anche in Consiglio regionale. Abbiamo fatto, credo, uno spot bellissimo alla politica e alla volontà di risarcire chi ha patito una strage come quelle che hanno patito i parenti delle vittime delle stragi nazifasciste la settimana scorsa. Non ci facciamo campagna elettorale sopra. Nessuno. Sentiamo Pescini. Grazie, sindaco. Sentiamo Pescini. Nessuno può fare... Prego. No, 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 Pescini, Pescini. Saluto anche e ringrazio il sindaco di Civitella che era presente a quella riunione convocata di corsa, tra l'altro proprio perché è in Consiglio, lo ricordava Francesco Torzelli, l'abbiamo sottolineato tutti, l'Avvocatura di Stato a dicembre credo abbia scritto una delle peggiori pagine della sua storia, perché le motivazioni rispetto a famiglie che alla fine, dopo 80 anni, non chiedono il risarcimento economico, è un modo per avere giustizia. Io conosco personalmente, e per quello anche mi sono, come dire, attivato, conosco personalmente nel territorio dal quale provengo persone che sono familiari delle vittime, Mirella Lotti, che è una, purtroppo, familiare delle vittime della stragi pratale nel territorio di Barberino Tavarnelle, ha visto suo padre trascinato via e morto e le si deve dire come avvocatura di Stato che deve dimostrare il danno subito, ma stiamo scherzando. E purtroppo questo fosse un caso, si stanno via via, sembrano fatti in fotocopio a questi giudizi. Quindi ho avuto molto, molto davvero piacere, soddisfazione politica e istituzionale quando in Consiglio regionale, dopo l'intervento anche di Francesco Torzelli, firmando insieme due emendamenti alla mozione che avevamo presentato con Giacomo Bugliani, siamo riusciti a trovare una cosa che ci abbia unito. Perché questa è una battaglia di civiltà e chiediamo anche che non siano, rispetto a quel fondo, non siano ammessi ritardi nell'erogazione dei pagamenti. Non tanto, ripeto, perché quelle famiglie abbiano il bisogno oggi, ma perché venga riconosciuta piena giustizia. Una giustizia... Io spero davvero che questa nostra, io lo dirò anche, abbiamo anche detto di dirlo ai colleghi di altre regioni, consiglieri regionali, in modo che tante regioni facciano sentire la loro voce. Facciano sentire la loro voce, perché questa è una pagina davvero brutta rispetto a... L'abbiamo voluto riportare di nuovo sotto il riflettione anche per questo. Grazie Pescini, grazie Torzelli, grazie Giovanni Fittante, il sindaco. Diamo la linea alla regia, un piccolo break, poi torniamo, abbiamo altri temi da affrontare con altri ospiti. A tra poco.